ciao e benvenuta in questo nuovo episodio di dolce flirt università nataniel non vedo l'ora che arrivi il momento dell'appuntamento al luna park quindi cominciamo subito questo nuovo episodio e dobbiamo andare in camera quindi saliamo ed entriamo yilin come al solito non è in camera almeno per il momento ho poggiato le mie cose ho il tempo di farmi una doccia e scegliere un film prima di corigarmi e pria o ci sta chiamando non ho ancora la risposta mi ha detto solo che ha bisogno di più tempo per studiare il dossier ho risposto oh no non perdere la speranza tutto è ancora possibile già si vedrà mi dispiace di non essere rimasta con te avevo troppo da fare non importa capisco benissimo buonanotte buonanotte mi sento in colpa ma devo anche occuparmi delle mie cose sono sicura che lo capisce anche stanotte yilin è rientrata verso le tre del mattino la sua settimana non deve essere semplice non ho fatto fatica a riaddormentarmi subito il mattino dopo mi sono alzata presto sapendo cosa mi aspettava quella sera finalmente il luna park il pensiero mi ha riempito di gioia proprio come una bimba piccola finalmente rivedrò nat dopo il suo messaggio di ieri mi sembra di poter di nuovo respirare è deciso a farla finita con tutto questo sono rimasta in pigiama a studiare per tutta la giornata sono sorpresa dalla quantità di lavoro che sono riuscita a fare in questo inizio di settimana potrò godermi il resto delle vacanze ci siamo è ora di prepararsi vediamo un po che cosa potrei mettermi visto che andiamo a luna park potrebbe essere l'occasione di indossare qualcosa che non metto di solito allora la tenuta per nata è questa con i pantaloncini di velluto a vita alta con la giacca di paillette che adoro anche se sono in dubbio ed eccola qui mettiamola no è carina secondo me un attimo che l'aggiusto ecco perfetto oh un messaggio di alex o ci sta chiamando siamo già arrivati è fantastico vi aspettiamo all'entrata ho verificato di aver preso il portafoglio un po di contanti e il cellulare e sono uscita o finalmente non vedo l'ora non vedo l'ora vari studenti si dirigono nella stessa mia direzione da quanto ho sentito dire sono anni che luna park non è più venuto in città mi ricordo che violet ce ne aveva parlato quando eravamo al liceo sì è vero dovevamo andarci insieme e poi alla fine non l'abbiamo più fatto ma abbiamo perso l'occasione secondo dove devo andare mi sto perdendo vedo intere famiglie gruppi di persone che attraversano il parco quasi di corsa non c'è voluto molto prima di vedere le illuminazioni fluorescenti del luna park sfolgorare nel cielo oh wow bellissimo oh ed ecco qui ciao hai visto è gigantesco non mi aspettavo qualcosa di così grande oddio io amo il luna park non c'è niente da ridire hanno fatto le cose in grande è enorme gli altri non sono ancora arrivati io sì eccomi qui evviva ho voglia di salire sul treno fantasma e lotto volante e di rimpinzarmi di zucchero filato a quanto pare sei di nuovo in forma ho deciso di non pensarci stasera e fai bene ho passato la giornata sbagliata sul letto incapace di muovermi stasera può cadere il mondo ma io ho deciso di divertirmi perché è successo qualcosa allora aprilia gli ha raccontato le ultime vicende oddio ma è terribile tu come l'hai presa non è facile ma non posso mica star bene chiuse in camera ad aspettare la risposta non è il mio stile abbiamo continuato a parlare per un po rendendoci conto ad un certo punto che eravamo arrivati già da un bel pezzo tutti e quattro allora che si fa aspettiamo gli altri beh sì abbiamo avvertito tutti credo che sia meglio aspettarli ok ma dov'è nataniel oh ambra è fantastico da quanto tempo non avevo più messo piede nel luna park ambra ci ha salutati uno per uno ho sentito una mano circondarmi la vita finalmente è arrivato il nostro fidanzato amore ciao amore salve sì sei venuto davvero non so che trucco tu abbia usato per convincerlo cherry lin ma aveva davvero voglia di venire non ho neanche avuto bisogno di forzarlo incredibile ho baciato nat davanti a tutti ti avevo detto che sarei venuto non voglio perdermi l'occasione di vederti urlare terrorizzata sulle montagne russe ah per questo sei venuto io per baciarti sulla ruota panoramica ma ancora ancora rosa late o e g o non me l'aspettavo lui castielle oddio e io castielle ma che cosa sono io che l'ho invitato ambra cioè questa cosa a me non quadra ma sicuro che siete solo amici voi due perché ma un piccolo sospetto io ce l'ho e poi tra qualche mese non lo vedremo più visto che inizierà un tour mondiale con la band era l'occasione giusta sul serio vai in tour mondiale oddio non prima dell'estate beh sì facciamo il giro dei festival è fantastico i creostorm hanno un successo pazzesco è vero noi stessi siamo piuttosto sorpresi quindi non gli ho lasciato scelta ma io ho promesso che lo difenderemo dagli attacchi delle fan delle fan mi era sembrato di capire che creostorm cantassero solo le nenne per bambini ti prego nat dai non iniziare una bella serata non hanno l'età per andare sulle giostre dei luna park cassiella dovrebbe essere al sicuro e tu sai che rischi di non uscire vivo da qui oddio stanno ricominciando è quello che voglio vedere anche se continuano a punzecchiarsi il tono è cambiato sembrano più complici che rivali a meno male ok mi chiedo se la sera in cui ambra ha avuto un problema non abbia segnato una svolta per loro tutti si sono messi a ridere quando ripenso all'inizio dell'anno e a quando hanno fatto appugni davanti al bar rischiando di sfasciare tutti i tavoli all'aperto le cose sono ben cambiate tra di loro oh sani ciao c'è un indovina dobbiamo assolutamente andare a vederla ciao sani ho come l'impressione che tutti ritornano un po bambini qui chi non ha il segreto desiderio di scoprire cosa ci riserva il futuro ho tutta l'aria di essere una truffa coi fiocchi piuttosto io ho voglia di provare ad andarci appunto per sapere se lo è o no oh finalmente si è arrivata rose l'indovina non fa per me credo che me ne starò qui a gustarmi una bella mela caramellata e a guardarvi fare il giro delle attrazioni non ti andrebbe di provare almeno il tiro al segno con me per vincere un peluche gigante leite ha dato un bacio sulla guancia a rosalia che è arrossita come una ragazzina è bello vederli così dopo tutto quello che hanno passato negli ultimi tempi no vabbè io sono troppo felice siamo quasi al completo chi manca davvero chi manca e mi sono fatta la stessa domanda yann sorry yann mi ero scordata di te finalmente sono riuscito a sfuggire al controllo dei miei genitori perfetto siamo al completo al controllo dei tuoi genitori in che senso ti tenevano prigioniero pranzi di famiglia che durano 7 ore bambini che corrono dappertutto e 5 kg in più sì mi hanno tenuto prigioniero tu che ti lamenti di stare in famiglia ma chi ti crede vista la quantità di foto che hai appeso al muro della nostra camera so benissimo che ti mancano molto sì ma credo di aver fatto un overdose questo inizio di settimana sono contento di rivedervi ok adesso ci siamo credo non manchi più nessuno giusto perfetto da cosa cominciamo che che tutti che vogliono fare una cosa diversa io non me ne vado se non vedo l'indovina un giro sulle montagne russe per iniziare io voglio di andare nel labirinto degli specchi non vi andrebbe di andare a prendere qualcosa da mangiare per cominciare in 11 a luna park credo proprio che ci divertiremo in ogni caso nessuno ci obbliga a fare tutto tutti insieme potremmo darci appuntamento tra un'ora e mezzo per andare a mangiare e poi ognuno cambia gruppo che ne dite si vede che ti sei occupato di boy scout sai gestire un gruppo di bambini scalmanati se lo dice alexi 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 ha dato un pizzicotto sulla guancia di rosa ridendo sì è proprio così siamo tutti ridiventati bambini per quanto mi riguarda inizierò con il labirinto degli specchi e io con l'indovina mentre gli altri parlavano ho incrociato gli sguardi di shani e ambra che tutte e due sembravano chiedermi silenziosamente di accompagnarle non mi mettete davanti alla scelta ma perché uffa però a me ad esempio piace più l'indovina cioè io sono più in sintonia con shani cioè mi dispiace ambra però a me l'indovina incuriosisce quindi io scelgo di andare con shani non sono mai andata da un'indovina in vita mia sono curiosa di vedere che metodo usa per darcela a bere mi piacciono le ragazze che sanno correre dei rischi qualcun altro è curioso o siamo solo io e shani visto che nessuno rispondeva abbiamo capito che la nostra proposta non aveva un gran successo vieni con noi nat preferisco ritrovarvi dopo la magia nera non fa per me ma la magia nera non c'entra niente hai paura di quello che potrebbe dirti magari ok ci vediamo dopo allora io e shani ci siamo diretta alla roulotte che vista dall'esterno sembrava piuttosto stretta e l'unica attrazione davanti alla quale non ci sia la fila cosa facciamo non c'è nessuno magari non c'è ci proviamo poi vedremo abbiamo scostato delle spesse tende di velluto piene di polvere per entrare nella roulotte oh sì questo mi ricorda tanto l'evento sedetevi care mi aspettavo di vedere una donna mi ha stupito scoprire che invece era un uomo di una quarantina d'anni ah è un maschio allora sedetevi care vabbè è un trucco pesante un turbante in testa ma è quello che indossa sembra trovato a una svendita di costumi di carnevale va bene già forse erano meglio gli specchi io e shani ci siamo sedute scambiandoci uno sguardo divertito posso farle tutte le domande che voglio tutte le domande certo che puoi carina ogni domanda costa cinque dollari ah pure sceglila con cura è vietato riformularla senza editare shani ha posato una banconota di cinque dollari sul tavolo sembra decisa quando morirò ma che cavolo di domande sono da fare shani ma stai scherzando l'indovino si è messo ad agitare le braccia davanti a lui in modo teatrale intorno a quella che sembrava essere una minuscola sfera di cristallo quando il vento si alzerà i tuoi occhi si chiuderanno ma che cavolo di risposta è le stagioni finiranno per sempre non accadrà domani né oggi né tra 60 anni ma forse prima cerco con tutte le mie forze di non ridere perché in effetti e quindi e che ne so non si è capito niente sei ancora troppo giovane per domande di questo genere la tua nonna ti direbbe di cogliere il giorno presente senza preoccuparti né dei crisantemi né del domani dovresti dare retta a maria shani si è alzata di scatto cosa shani allora ok cioè giusto giusto detto maria che uno dei nomi più utilizzati in italia quindi va anche l'indovino si è alzato e si è ritirato dietro una grande tenda ecco se ci sarei andata io col cavolo che indovinava i nomi delle mie nonne che sono molto particolari quindi io l'avrei fregato l'indovino anche l'indovino si è alzato e si è ritirato dietro una grande tenda aspetti ho altre domande mi dispiace è l'ora della mia pausa tornate tra un'ora ha ci ha pure liquidato così questo io e shani siamo uscite alquanto sconcertate dalla roulotte non ci metterò più piede guardi un tipo alto quasi due metri ha messo una barriera davanti all'entrata della roulotte per impedirci di tornare indietro cosa c'è shani ha detto la tua nonna ti direbbe di cogliere il giorno presente senza preoccuparti né dei crisantemi né del domani sì mia nonna era solita dirci carpe diem esattamente la definizione di carpe diem cogli il giorno presente senza preoccuparti del domani d'accordo ma non è qualcosa che tutte le nonne dicono in fondo sì ma questo era proprio il soddetto preferito e ha aggiunto dovresti dar retta a maria mia nonna si chiamava maria giovanna ok ma tutte le nonne visto si chiamano sempre maria qualcosa no tranne le mie non lo so comunque strano beh a me dà l'impressione di qualcosa che può dire a chiunque e che poi ognuno può interpretarle come vuole non ti sembra no ho provato una strana sensazione devo tornarci vabbè ci torni da sola perché io cambio guarda non vengo per il momento è chiuso tornaci tra un'ora e poi vedrai abbiamo raggiunto gli altri alcuni parlavano altri scattavano foto vi è piaciuto e guarda preferivo gli specchi con ambra è stato fantastico si potrebbe fare un altro giro e ancora presto e per quanto mi riguarda non ho fame vuoi mi sono girata no non è possibile ehi ma non è il professor zaidi laggiù oddio c'è anche il mio professore di diritto no vabbè pure professori è il mio professore di neuropsichiatria c'è persino il responsabile amministrativo e prima ancora di vederlo ho riconosciuto l'accento irlandese del direttore vengono verso di noi ma non ci hanno ancora visti il direttore ci ha fatto un gran sorriso quando ci sono passati accanto buonasera ragazzi ho preso l'iniziativa di invitare a luna park tutti i professori che desiderassero venire non c'è niente di meglio per rafforzare lo spirito di gruppo non vi pare ho rivolto un'occhiata al responsabile amministrativo che sembrava molto poco entusiasta della gita sì è stata davvero una bella sorpresa credo che molti di noi avrebbero amato sapere che venivamo qui prima di accettare abbiamo parlato qualche minuto con i professori presenti su venite ho sempre sognato di salire su una giostra come questa il responsabile amministrativo non sembra saltare di gioia figuriamoci lui borbotta tra se e se qualcosa di incomprensibile ma non faccia quella faccia patrick sono sicuro che le piacerà molto noi tutti a ridere si sono allontanati seguendo il rettora chi se lo aspettava già puoi dirlo puoi proprio dirlo su dai persino loro hanno già fatto più giri di noi cosa proviamo adesso come prima nessuno sembrava voler fare la stessa cosa di un altro allora io direi questa perché in effetti è vero e la trovo super romantica mi è sempre piaciuta la ruota panoramica farei volentieri un giro soffro di vertigini mi dispiace ma io non vengo ah no sarebbe più divertente andarci tutti insieme in ogni caso ogni compartimento ha solo due posti allora nessuno sono secoli che non sono più salito su una ruota panoramica sì e infatti io con te voglio salirci scusa è romantico ci baciamo in cima vengo con te grande ok ci siamo messi d'accordo con gli altri per ritrovarci tutti allo stende del cibo dopo il nostro giro io e nato siamo andati a fare la fila per la ruota panoramica ci tenevamo per mano e disegnava piccoli cerchi sul dorso della mia mano col pollice da quando ho ricevuto il suo sms in cui mi diceva che aveva voglia di smetterla una volta per tutte con il traffico di droga non faccio altro che pensare a questo tanto vale provarci quindi vuoi smetterla con sì stavo pensando a quello che ho detto nel messaggio ho davvero voglia di chiudere come farai ho un piano ed è diverse settimane che lo preparo wow credo che abbia finalmente trovato una via d'uscita dici davvero io abbassato il tono della voce ho parlato con un poliziotto cosa dici davvero nat tu hai seguito il mio consiglio non era così semplice abbiamo smesso di parlare una volta arrivati all'entrata della ruota panoramica buonasera ragazzi il giro costa 10 dollari grazie ok abbiamo pagato almeno sulla ruota panoramica nessuno potrà sentirci ho aspettato che la cabina partisse prima di parlare di nuovo dell'argomento sono così felice che ho voglia di piangere alla fine devo smettere di stare in ansia tutte le sere che non so cosa sta facendo sono sicura che tutto si sistemerà alla fine tutto bene sono solo emozionata tutto qui mi ha baciata con dolcezza accarezzandomi la guancia allora spiegamelo infatti il poliziotto è venuto da me cosa è già da un bel po di tempo che la nostra rete viene sorvegliata dalla polizia cercavamo di depistarli facendo mettere delle persone x in posti di falso contrabbando contrabbando così le poche volte che ci hanno controllato non hanno trovato nulla ed un poliziotto in particolare si è accorto che il mio profilo era diverso dagli altri voleva che gli dessi delle indicazioni sulle persone con le quali lavoro fino ad ora non mi fidavo affatto se ho capito bene voleva che fossi la sua talpa sì esattamente e quindi e quindi ci siamo visti diverse volte in tutta discrezione perciò credo proprio che ce la farò oddio che bello mi rassicuro uscirmene da questa storia senza troppi problemi ma loro ti lasceranno stare ebbene non hanno scelta si faranno sicuramente arrestare tutti accidenti nat è un po rischioso non trovi meno rischioso di quello che facevo prima visto così ero talmente concentrata sulla discussione che non mi ero resa conto che la cabina fosse arrivata nel punto più alto della ruota e qui ci vuole il bacio però si è fermata in alto nat io ti amo sono troppo contenta che tu abbia preso questa decisione oh che carini ma il bacio ma qui ci stava un bel bacio sarebbe stato super romantico però è bella ugualmente l'illustrazione e sono felicissima per nat mi ha sorriso anche se non ha lasciato trasparire nulla si vedeva benissimo che era emozionato la cabina aveva ripreso il percorso riportandoci a terra e alla realtà non vedo l'ora che tu possa smettere con questa storia sarò sempre qui per aiutarti anche se occorre trovare un lavoro al bar o se c'è bisogno di condividere l'università a riprenderti ti aiuterò a farlo sei adorabile mi ha dato un bacio sulla fronte ma non ci sono esattamente arrivati giù abbiamo lasciato spazio ai clienti successivi non voglia di zucchero filato saranno già allo stand delle cose da mangiare andiamo a raggiungerli allora ritrova lo stand del cibo che qui sono già tutti là ed eccoli ehi non ordinate senza di me sto morendo di fame sono scoppiati tutti a ridere non ti preoccupare ci sono troppe persone ad ogni modo dobbiamo aspettare il nostro turno è stato bello sì fantastico e per te che cosa hai fatto ho cercato di vincere dei regali alle macchinette a gettoni questo gioco mi ha resa completamente dipendente sei riuscita a vincere qualcosa ha tirato fuori un'immensa tavoletta in legno dalla sua busta di plastica non sarà una tavola ouija per caso sì vabbè la conosco troppo bene ho una nuova tavola ouija una tavola ouija del luna park sarà sicuramente stregata lo scoprirò presto non sei tornata dall'indovina era tutto chiuso spetta a noi ordinare cosa volete io prendo un sacchetto di ciurro io prendo zucchero filato all'ananas o anch'io ne voglio una per me una mela caramellata anch'io prendo lo zucchero filato il gestore ha preso le ordinazioni va bene per tutti offro io cosa ma no rosa paghiamo noi no no mi fa piacere allora va bene così per tutti ci siamo girati per contarci e vedere se ci fossimo tutti ma manca qualcuno no no cosa è successo not è andato via abbiamo guardato un attimo la gente che stava attorno a noi il gestore del camioncino ha iniziato di nervosirsi vai rosa puoi confermare l'ordine sarà sicuramente al telefono da queste parti ho fatto il giro del camion ma non riuscivo a vederlo non vi preoccupate è andato via e lo ritroveremo sicuramente tra due giorni con altre cicatrici al viso no ma com'è andato via ma così senza salutarci senza dirci niente ci sono rimasta male eppure sempre nat non mi rassicura molto quello che stai dicendo ambra scusami stavo cercando di sdrammatizzare ci siamo seduti attorno ad un tavolo accanto al camioncino rosalia e leite ci hanno portato quello che avevamo ordinato ancora nessuna traccia di notte ambra stava mangiando e chiacchierando tranquillamente non sembrava spaventata mi stavo sicuramente facendo dei problemi per niente ho comunque cercato di attirare la sua attenzione in modo discreto ci sono novità da parte di tuo fratello è fatto così non ti preoccupare ma se vuoi per farti stare più tranquilla posso chiamarlo è rimasta per qualche istante con l'orecchio attaccato al telefono sto squillando ma risponde la segreteria ecco adesso io mi preoccupo sinceramente ci ho fatto l'abitudine avrà sicuramente incontrato qualcuno di sua conoscenza e tra poco sarà qui o tra due giorni io ho inviato un messaggio dicendogli dove fossimo seduti spero che non sia stata la nostra conversazione precedente ad averlo fatto scappare no sembrava piuttosto fiducioso abbiamo mangiato continuando a discutere allegramente la mezzanotte era passata da un bel pezzo quando tutti erano ormai sazi è da più di un'ora che siamo seduti facciamo un altro giro sulle giostre prima di andare via io farei un piccolo giro ad un gioco d'azzardo ne sono molto intrigata di chi è questo numero forse nat rispondi pronto charlene puoi venire in palestra per favore kim non è un po' troppo tardi per fare sport ascolta io non posso dirti il motivo perché so che non sei sola quindi non vorrei che tu vada nel panico oddio no vabbè che è successo mi sono alzata di scatto ho capito subito che c'è qualcosa che non va mi sono allontanata dal gruppo e per nat si è per favore mi ha sopplicato di non chiamarti ma ho dovuto farlo no vabbè raga che sta succedendo non so davvero cosa fare vieni solo tu arrivo ho guardato i ragazzi che erano ancora seduti al tavolo ed ho pronunciato la prima fase che mi è venuta in mente e che avrebbe evitato qualsiasi domanda vado in bagno e torno e invece se spariremo lì non ci vedranno più senza riflettere mi sono buttata tra la folla per attraversare luna park ed uscire velocemente dal parco no cosa sta succedendo era una bella serata tranquilla ma perché ho corso fino a perdere il fiato iniziando ad immaginare gli scenari più assurdi e peggiori ho spinto la porta della palestra con la spalla fortunatamente era già aperta kim kim dove sei sono qui lui è negli spogliatoi mi sono precipitata verso la porta degli spogliatoi kim ha preso il mio polso per trattenermi voglio avvisarti prima che tu entri c'è molto sangue cosa cosa no vabbè no cioè no raga no non ci sto credendo non ci sto credendo è finito pure così l'episodio l'hanno pugnalato cioè che fine episodio è scusatemi è scioccante io sono sconvolta eravamo a luna park abbiamo vissuto un momento meraviglioso poi lui è sparito quindi vuol dire che qualcuno l'ha visto e l'ha preso e lo hanno pugnalato volevano ucciderlo mio dio ma kim chiamare l'ambulanza no io sono agitata va bene 5 5 tutto 5 allora quindi l'episodio è finito in questa maniera abbastanza tragica ovviamente non penso che nataniel oddio scusate mi è caduto il microfono ovviamente non penso che nataniel morirà perché cioè il protagonista maschile però cioè una notizia abbastanza sconvolgente non mi immaginavo una fine di episodio del genere mamma mia allora fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate voi giù nei commenti io sono sconvolta probabilmente resterò sconvolta per tutto il giorno se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciatemi un bel like se non siete iscritti vi ricordo di farlo così non vi perderete il prossimo video io ovviamente non vedo l'ora di cominciare il prossimo episodio per vedere quello che accadrà e noi ci vediamo quindi in un prossimo gioco ciao